Il vortice lo ha liberato e restituito ai suoi cari. Il corpo di Alfonso Maria Lostia, 38enne romano caduto in acqua alle cascate di Fanesi il 14 agosto, è stato recuperato in mattinata dai vigili del fuoco o sul posto anche gli operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Quando le squadre si sono portate alla base della cascata per preparare gli ancoraggi per il diffusore che avrebbe dovuto smorzare la portata dell'acqua agevolando le ricerche, hanno notato il corpo in galleggiamento. Il gorgo all'interno della vasca di caduta della cascata lo aveva finalmente rilasciato. L'uomo il giorno prima di Ferragosta era finito in acqua mentre affrontava il sentiero attrezzato che lambisce le cascate. A nulla erano valse le prime ricerche dei sommozzatori e proprio per questo si era pensata la soluzione del diffusore per rendere più agevole la perlustrazione.